Questa sera presentiamo il progetto che nasce da un lavoro decennale praticamente e che vuole dare impulso e valorizzazione alle aziende che lavorano e hanno il coraggio di continuare a investire sul nostro territorio. È un marchio che viene concesso appunto alle aziende di trasformazione, sia alimentari che artigianali, che hanno sede sul nostro territorio. Il marchio prevede appunto dei requisiti minimi di rispetto e disciplinare, però l'obiettivo è quello di far crescere la sostenibilità e il rispetto anche dell'ambiente attraverso il lavoro. Per questo Natale abbiamo deciso di dare un impulso alla comunicazione di questo marchio grazie a un'iniziativa che crediamo possa venire incontro all'esigenza di molti, ovvero quella di fare un regalo per Natale che valorizzi i propri valori e valorizzi anche un territorio che si ama. E quindi abbiamo proposto due pacchi natalizi, entrambi con prodotti del territorio, con due prezzi che possono venire incontro alle tasche un pochino di tutti, che vanno dai 30 ai 50 euro, all'interno dei quali è possibile trovare salumi, formaggi, confetture, biscotti, tagliatelle, insomma un modo interessante per raccontare un territorio che si ama e che magari si è visitato d'estate con un trekking o durante una vacanza. Grazie.